Vieni a trovarci all'atelier Sofia Monsurro a Cava dei Tirreni, in via Pasquale a Tenolfi 27. Sofia Monsurro, per un'eleganza senza tempo. Questa mattina una brutta sorpresa per l'istituto comprensivo Carducci Trezza di Cava dei Tirreni. Durante la notte appena trascorsa, infatti, dei ladri hanno fatto incursione nella scuola, mettendo a soccuadro uffici amministrativi e dirigenziali e sottraendo ben 13 computer portatili. Questo è il dato registrato prima di un inventario più approfondito, che sarà fatto nelle prossime ore. Un atto vandalico che per la comunità scolastica rappresenta una grave perdita, non solo della dotazione tecnologica all'avanguardia, ma che colpisce al cuore della cultura e dell'apprendimento dell'intera città. Stamattina i collaboratori sono entrati intorno alle 7.30 e hanno trovato le porte spalancate e hanno assistito a una scena da brivido, un vero e proprio atto vandalico. Documenti e fascicoli sparsi ovunque, chiavi in giro per tutto l'istituto e soprattutto abbiamo dovuto constatare la sottrazione di circa 13 pc portatili. La nostra paura è che, oltre il danno, che ovviamente è un danno ingente per una comunità scolastica che da poco era riuscita a rimettersi in sesto, grazie a un grande lavoro, non solo il mio lavoro, ma il lavoro dei docenti che hanno donato il loro bonus, al lavoro dei genitori che sono entrati in un progetto chiamato Genitori Attivi e hanno collaborato con noi per rimettere in sesto la strumentazione informatica di questa scuola, oltre a tanti lavori fatti dagli alunni che hanno vinto concorsi, premi e che hanno investito il risultato di questi premi in tecnologie informatiche. Ovviamente una grande parte anche all'istituzione stessa che con progetti di varia natura è riuscita a rimpinguare la sua dotazione. Ma il problema oggi è che, il timore oggi, è che questo sia il primo di una serie di atti vandalici perché quello che è stato sottratto è una piccola parte della nostra dotazione. Rammarico per quanto accaduto, espresso a gran voce dalla dirigente scolastica Mena Adinolfi la quale esorta l'amministrazione comunale di intervenire, a partire dall'installazione di un servizio di videosorveglianza che al momento non è presente alla Carducci Trezza. Sono circa due mesi che ho richiesto all'amministrazione un sistema di videosorveglianza proprio in ragione del fatto che la nostra scuola si stava dotando di infrastrutture tecnologiche importanti. Purtroppo non ho avuto riscontro da questo punto di vista. Stavo cercando soluzioni alternative che ovviamente implicano il dover indirizzare delle risorse che sono funzionali alle attività didattiche, peraltro per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza che non sono di competenza della scuola perché l'ente proprietario è l'ente comune. Quindi oggi io mi trovo a dover chiedere a viva voce e con forza all'amministrazione di non lasciarci soli, di intervenire immediatamente per installare un sistema di videosorveglianza idoneo, ad evitare che ciò accada di nuovo perché è facile che ciò riaccada. Oggi, stanotte, probabilmente hanno preso le misure di quella che è la situazione di questa scuola e se non ci sarà un intervento da parte dell'amministrazione, da parte dell'ufficio manutenzione anche per rimettere in sesto tutte le porte blindate che in questo momento non sono più idonee a garantire la sicurezza degli uffici, noi a breve certamente ci ritroveremo ad avere ulteriori furti. Tutto questo a danno di una comunità di studenti che con grande fatica si era rimessa in sesto e posso dire con soddisfazione, eravamo riusciti nel nostro obiettivo in un triennio di rimettere la carducitrezza in linea con quelle che sono le caratteristiche di tutte le scuole del territorio e anzi forse con le nostre piccole risorse a fare anche molto di più. Quindi oggi io utilizzo questo canale di comunicazione per chiedere il supporto dell'amministrazione a cui, devo dire, questa scuola apre sempre le porte. Non ultimo, sapete bene che abbiamo accolto la scuola dell'infanzia di Passiano per le ragioni strutturali, di difficoltà strutturali in cui versava la Giovanni XXIII. Quindi questa è una scuola aperta al territorio che collabora sempre con l'amministrazione. Oggi chiediamo di essere aiutati, di non essere lasciati soli e nell'immediato un intervento degli operai del comune, dell'ufficio manutenzione per ripristinare quantomeno i requisiti minimi di sicurezza.